questa è la lezione di colore allora come hai visto già qua il gioco stavolta nel colore sta nel dare uno strato omogeneo e poi nel ripassare più forte, più intensamente le parti che sembrano uscire da sotto perché ovviamente si ritengono essere in ombra quindi io prendo il mio colore stavolta prendo il verde sto attenta che abbia la punta ce l'ha perché io non sono una cialtruna e comincio a colorare come ti ho già spiegato in altre situazioni il colore si dà in maniera veloce senza stare troppo dietro a contorni, cose e storie perché il colore deve emergere da una serie di stratificazioni incrociate per quello che si otterrà come tinta piatta tinta uniforme d'accordo? data una prima stesura non faccio altro che ruotare il foglio per continuare a colorare con la mano in una posizione assolutamente naturale considera anche che per fare un video abbastanza veloce senza volerlo tagliare per essere sincera a quei tempi di coloritura che se io mi mettessi a taglia in colla e video poi te non lo sai se io ci ho messo tre ore o 45 minuti o 45 giorni eh? quindi sarò anche un po' meno precisa di solito sono molto più attenta però quello che mi interessa è farti vedere il procedimento perché sei te quello che devi imparare a fare questo tipo di operazione controlla sempre guarda come tengo la matita guarda come tengo la mano guarda come tengo tutto eh? questo è il modo migliore per imparare a colorare con le matite in disegno geometrico perché come ti ho già detto in più di un'occasione il colore in disegno geometrico e poi disegno tecnico ci dà la possibilità di aggiungere informazioni esattamente come stai vedendo il colore sta facendo emergere la geometria di questo disegno di questa composizione eh? fa emergere la geometria e poi una volta che io ho dato tutto il colore omogeneo e ho questa tinta chiara come base non faccio altro che andare a dare più intensità a queste parti che sembrano venire e emergere da sotto vedi? in questo modo 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 papappero allora poi ovviamente come abbiamo già fatto in altre in altre fasi non faccio altro che andare a incrociare il tratto perché questa intensità deve essere sfumata in maniera in maniera progressiva molto delicatamente quindi questo quindi questo ci siamo? perfetto questo e questo questo poi un'altra cosa che ogni bambino sottovaluta sono le sue matite perché troppo spesso le matite che comprano i bambini sono matite che non permettono di colorare bene quindi bambino sciocco associa la sua matita sgarrupata al fatto di non essere bravo a colorare a parte il fatto che anche il colore come tutto è questione di esercizio più ti eserciti più ti riesce più ti riesce più ti piace più ti piace più lo fai volentieri quindi si tratta sempre e comunque di iniziare da qualche parte d'accordo? poi qualche volta viene meglio qualche volta viene peggio ma l'importante è continuare a esercitarsi senza darsi mai per vinto tadaaaan 5 minuti netti quasi record ciao